musica Allora, poi ordinati della via fine corsa, andiamo avanti per questa perovana, avremo il countdown, venture che si allungano leggermente, non si tocca già avanti a fronte, signori diretti uffici a montagna, il momento dell'estate, andremo a breve, andranno a giornare, il momento dell'estate, andremo a breve, andranno a giornare, e ora, si consiglia in 30 secondi! Ci siamo o no, fino a 30! Pronti, pronti a countdown, a breve, 10 secondi! In questo momento, mi capo i 15! Vero 10! 7, 7, 5, 4, 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10! In questo momento, la seconda, la missione, la foto, città, di Michele, e per il momento dei miei, tutti i miei, andrete a comandare, il procedere di Michele! Vinde vostre grazie, vinde vostre grazie, e dovrete a tutti voi che oggi vi darete vantaglia, e vedrete aggiornare nuovamente, con la passione, mandata ciclismo la voglia di andare anche a soffrire delle nuove perché l'importanza del ciclismo è proprio questa e noi che non è messa a raccogliare siamo importantissimi siamo importantissimi di nota con lo scottacolo della partizia la carona multicolore arrivano da ogni angolistica arrivano da qualche parte questa è la mafia iniziale questa è la mafia della fettissima raccogliata città di rizzone è un'altra fiumare a corno è un evento importantissimo 4.000 sorprende con il comune di rizzone di corattete e il mio rd e soprattutto rizzone ferme andremo a raccontarvi ogni chilometro di questo attesissimo appuntamento immensamente tanti immensamente tanti e io di nome di Gazzè mille volte l'importanza ripeto per il sottomio io mi sigo l'unito perché se te ne siamo qui oggi e grazie a voi ogni singolo l'unito io ce l'ho immensamente immensamente e ci sono anche i dati tutti un saluto a tutte le ragazze che sono state quest'oggi va a scivolare anche la parte finale del gruppo forte di quasi mille partecipanti dunque ragazzi in poca l'unico a tutti e guidate la vostra bicicletta oltre che con la passione soprattutto con la testa ricordati di rispettare il codice della strada e per questo giro ancora ancora vi doverò buon divertimento e vi aspetteremo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti